Il pizzometro azzurro, la nuova gustosa rubrica per i lettori di Napoli Village. A cura di Emilia Sensale con la partecipazione del noto pizzaiolo napoletano Gino Sorvillo. Cari lettori di Napoli Village, anche questa volta il noto pizzaiolo napoletano Gino Sorvillo ha voluto preparare per tutti i lettori una pizza. Questa pizza in onore della sfida in Champions League del Napoli contro il Viglia Real. Sfida che gli azzurri hanno vinto con un risultato di 2-0. Il risultato che vedete è qui visibile su un tappeto giallo di mais. Come sempre Gino è voluto essere molto simpatico con i lettori e molto disponibile. E speriamo che alla pizza di Gino porti fortuna come ha già portato fortuna l'ultima volta. Infatti abbiamo vinto i genitori. Il ciuccio azzurro vola. A te la parola Gino. Napoli Viglia Real 2-0. Non potevo non preparare una pizza delica che ha un tappeto di crema di mais. e il risultato è fatto con la melenzana viola. 2-0 quindi. Napoli sempre di più nel mercato, nel panorama europeo, sempre più in alto. Il gol di Cavani e Amsic. Il prossimo incontro sarà con l'Inter. Forse Cavani non giocherà. Oramai la consapevolezza generale è quella di avere a chi fare una squadra composta da veri campioni che voleranno sempre più in alto.